Sì, provate per via, che so, sarà un po' più piccoli, ma se non è prima, io avevo molto po' di via, no? Sì, ma se ne è vicine, vai! Sei, cinque, quattro, tre, due, uno, dai Monti, vai, vai, Andrea Zunia, pronto? Sì, chi è ? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.